Bentrovati a tutti, chi vi parla è il Cavaliere Attilio Delisa da Sanza e in merito a tutto ciò vi do i miei più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Così iniziando, Buon Natale per diletto, Buon Natale con affetto, Buon Natale con amore, Buon Natale di tutto cuore e quando il Natale passerà, auguri per l'anno che verrà. Un saluto a tutti di nuovo e alla prossima. Grazie.